Ciao Darwin! Il 2% dice, lo show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è stato il più visto della serata battendo nettamente la concorrenza, ovvero Sanremo di Antonella Clerici La scorsa settimana gli spettatori hanno ammirato la bellezza della nuova Madre Natura, una modella croata che ha incantato sia il pubblico da casa che quelli presenti nello studio un dell'Elio Sin Romo Ma a differenza delle passate edizioni, quella conclusiva, almeno così si dice, la Madre Natura cambierà ad ogni puntata Andiamo a vedere chi è quella nuova.Ciao Darwin! Inoltre, Ciceis Zele sarà la Madre Natura della seconda e terza puntata, la nuova Madre Natura di Ciao Darwin Otto Stando alle prime anticipazioni sarà la top model cubana Ciceis Zele La ragazza parteciperà alle prossime due puntate del programma di Canale 5 condotto dal duo Paolo Bonolis e Luca Laurenti La bellissima Ciceis è nata a Lavana ma da tempo vive a Napoli La Zele è stata lanciata nel mondo della moda da Rocco Barocco, mentre in televisione ha già partecipato ad alcuni programmi come Un senso della vita dello stesso Bonolis Ma anche al Chiambretti Night, la nuova Madre Natura ha partecipato anche ai videoclip di Ora on Michael di Don Joey e Emma Marrone di Bosseggiando di Guette Keny Controllando delle foto pubblicate dalla ragazza sul suo profilo Instagram, abbiamo visto che conosce anche l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corone, quindi appuntamento a venerdì 22 marzo 2019 alle 21.30 su Canale 5 per ammirare la bellezza di Ciceis Ciao Darby Notto